Aloy probabilmente ancora ai margini, Merola dovrebbe esserci fuori squizzato per squalifica, recuperati per la Cani e Masala. Questo è il quadro a tre giorni dalla sfida di Fermo in programma domenica prossima alle ore 20. Nel dettaglio Aloy è ancora alle prese con i postumi della contusione al ginocchio rimediato nel corso del match di Olbia. Ha cominciato la settimana in gruppo, poi solo differenziato, niente di preoccupante, anche la risonanza magnetica di qualche giorno fa aveva dato esito negativo. Dunque assai probabile che l'ex Avellino salti la gara di Fermo per essere poi al meglio nella prima sfida playoff, spareggi che per il caso Taranto potrebbero slittare di una settimana. Merola invece sta molto meglio, ha smaltito il risentimento agli adduttori, accusato nella settimana che ha preceduto la partita con l'Ancona. Non avrebbe dovuto giocare, è stato invece schierato in precarie condizioni. Effetti evidenti, non una grande idea. Ora sembra aver recuperato e rientrato col gruppo. Salvo sorprese al Recchioni di Fermo, il bomber risponderà presente. A centrocampo scontato il rilancio di Matteo D'Agasso, entrato in corso d'opera nel match con l'Ancona, risultando il migliore. Al centro dell'attacco possibile rientro tra i titolari di Gigi Cuppone. Gara da non sbagliare e Pescara deve battere la fermana per essere sicuro almeno del settimo posto, ultimo utile per disputare il primo turno preliminare playoff in casa con due risultati su tre al novantesimo. Vincendo, Brasco e compagni terminerebbero in sesta posizione, scontro diretto a favore, qualora la Juventus Under 23 non espugnasse Pesaro. Diversamente la squadra di Cascione rischia di classificarsi tra l'ottavo e il decimo posto. In questo caso giocherebbe la prima partita degli spareggi fuori casa. E veniamo alla fermana, che a quota 31 sarebbe oggi in D per il ritardo di più di otto punti dall'Ancona quintultima. Pertanto si giocherebbe un solo play-out tra Re Canatese e Vis Pesaro. Dunque, per evitare la retrocessione diretta e accedere agli spareggi, i canarini devono battere il Pescara e sperare che l'Ancona non faccia la stessa cosa nel match interno con la Lucchese, oppure che l'Entella perda in casa con la Re Canatese. Negli scontri diretti ricordiamo il Pescara in vantaggio con Juventus Under 23, Pontedera e Arezzo, ma non col Rimini.